Una festa di piazza per Papa Francesco per celebrare il suo 78esimo compleanno. A bordo della Papa Mobile il pontefice ha accettato di buon grado di spegnere le candeline sulla torta decorata con i colori dell'Argentina e di brindare a base di mate la bevanda tipica del suo paese natale. Un regalo speciale è arrivato in giornata con il disgello delle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Ma Papa Francesco non ha dimenticato di ricordare le vittime dell'ondata di violenza che percorre molti angoli del mondo. Momento del silenzio e poi col Padre Nostro vorrei pregare insieme con voi per le vittime dei disumani atti terroristici compiuti nei giorni scorsi in Australia, in Pakistan e nello Gemma. La festa non poteva non finire senza le danze. Migliaia di ballerini con un flash mob si sono dati appuntamento nella piazza vicino a San Pietro per volteggiare a passo di tango.